Un saluto, buon primo maggio a tutti, i miei amici che mi aiutano, quest'oggi presentiamo al palco di Perugia, Patti vieni qua, vatti venire, siamo qui all'osteria mentre suonano, adesso vi faccio vedere il palco, purtroppo Perugia è un po' oggi uggiosa, il palco è alle mie spalle, quello là, ci vediamo fra poco. Adesso ragazzi approfittiamo di questa occasione per spiegare come si indossa un passo, il nostro Daniele Rotella, The Boda Family, non parlo però, se finisce andiamo avanti. Allora, primo passante, secondo passante e poi si blocca introducendo il cartoncino e potete spassarvela. E' arrivata anche la Patti, è arrivata anche Marghe, ma io vi volevo chiedere, vi è piaciuto il tutorial? Rispondete al sottaggio.